Nuova Ford EcoSport 1000 Titanium EcoBoost 125 CV Questa vettura di listino costa 20.000 euro, tondi tondi più IPT, granice metallizzata, 600 euro più la garanzia estesa per 5 anni Ford, 550 euro più sensori di parcheggio posteriori, 250 euro ruota di scorta con la copertura, 250 euro fari automatici, sensori pioggia, retrovisore interno fotocromatico qui sconta quindi se la matematica non è un'opinione il totale dovrebbe fare 22 15.900 euro ma non può essere, qui qualcuno deve essere stato rimandato in matematica Luca ma che cavolo hai fatto a fare i conti? Ma veramente i conti li ha fatti lei? Allora 15.900 euro è proprio giusto oggi la matematica è diventata un'opinione Si trascend awardata un'opinione Forsemmo Oltre 5.000 euro di risparmio e voi con questi soldi cosa ci fareste? Una vacanza alle Seychelles, uno scooter, una cucina nuova, un supplente in matematica? Oltre 6.000 euro di risparmio, i dicci. Anche a milano di risparmio al governo che siagnoo b oppure per affricarrazzo, anche i raggiungani. Carbonino di risparmio, == clearing e di ruot многomani. Grazie a tutti Grazie a tutti!